Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete7, chiama 051 63 81 819. Ben ritornato il nostro nuovo appuntamento informativo, dunque è arrivata la famosa attesa direttiva del Ministero su o contro, dipende dai punti di vista, Bologna Città 30. Siamo in grado di anticipare alcuni contenuti della direttiva ministeriale fresca di redazione. La parola d'ordine del di Castero di Salvini è che il limite sotto i 50 deve essere giustificato su quelle strade dove sussistano criteri oggettivi, questo testuale nel documento, tale appunto da evitare scelte generalizzate. Se vuoi imporre un limite inferiore ai 50 orari, tipo i 30 appunto, lo devi fare con cognizione di causa, non così a random. E' la nostra un po' brutale traduzione simultanea della direttiva ministeriale che il Comune di Bologna, dopo appena una settimana o poco più dal Via alle Monte per chi sgarri 30, si appresta a ricevere, digerire, ribattere al tavolo probabile delle successive trattative. In sostanza, si legge nella nota del Ministero dei Trasporti, si può derogare i 50 ma solo per strade o tratti di esse dove sussistano condizioni oggettive. Ovvero, in soldoni, l'amministrazione ha da giustificare caso per caso la scelta dei 30. Ad esempio, su quei tratti in prossimità di stabilimenti, asili, scuole, parchi o simili dove il passaggio anche pedonale sia frequente, oppure giustificati da un elevato tasso di incidentalità monitorato almeno dall'ultimo triennio o ancora in presenza di strade con problemi strutturali o solo anche temporanei. Viceversa, si può derogare sempre i 50 aumentando dunque la soglia di velocità su quelle strade dove esistono, ad esempio, impianti semaforici coordinati a onda verde che riducano drasticamente il pericolo. È dunque una direttiva abbastanza dialogante, almeno nelle intenzioni, quello con cui si appresta, dicevamo, a fare i conti il Comune bolognese, oggi in presenza di una distribuzione dello stradario i30 abbastanza indiscriminato. Non a caso il MIT, acronimo del Ministero di Salvini, specifica che qualsiasi fissazione generalizzata dei limiti di velocità nel contesto urbano risulta di per sé arbitraria anche per l'ambiente stesso perché deve tener conto anche del divieto di circolare a velocità talmente ridotta da costituire in tralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione. Parola d'ordine dunque dal Ministero è armonizzare sicurezza e scorrevolezza rispondendo a criteri di logica e razionalità delle soluzioni. L'impressione dunque con questi chiari di luna ministeriali presto il Comune dovrà, diciamo così a sua volta, mitigare gli attuali limiti al ribasso. O mitigare o dire le vie legali? Staremo a vedere. Intanto nell'acceso dibattito di questi giorni sui limiti di velocità interviene anche l'ex procuratore aggiunto Walter Giovannini che si è occupato spesso di sicurezza stradale il quale ha fatto notare come il provvedimento della giunta Lepore Città 30 sia in realtà composto da una decina di ordinanze e oltre che riguardano appunto altrettante zone del Comune. Dunque non sia un atto amministrativo unico su tutta la città. Bisogna vedere a questo punto se e come questa scelta possa interagire e in che modo con la direttiva ministeriale. E intanto il sindaco Matteo Lepore si è andato a difendere direttamente in una tribuna mediatica di tutto rilievo. Porta a porta di Bruno Vespa. Abbiamo studiato tutte le strade, le abbiamo scelte in maniera oculata. A Bologna non c'è il caos, c'è una grandissima tranquillità. Nei primi giorni c'è stato un corteo che ha blocchato il traffico per una protesta legittima contro il limite dei 30. Poi c'è confusione per una marea di false notizie. Giravano informazioni false delle strade in cui c'erano i controlli. Hanno detto che abbiamo fatto migliaia di multe. Abbiamo fatto 20 multe in 10 giorni. Lo ha spiegato il sindaco di Bologna a porta a porta. Lepore ha ribadito che i bolognesi stanno reagendo bene a Bologna Città 30. I bolognesi stanno rispettando i limiti. Di questo sono orgoglioso. Anche quelli che non sono d'accordo stanno rispettando i limiti. Questo credo sia un grande segnale. Peraltro con pochissime multe. Quindi vuol dire che c'è un grande senso civico e una grande adesione. Penso dovremo aspettare le prossime settimane per avere dei dati certi. Perché si è molto parlato a livello nazionale di questa misura anche in modo molto emotivo, ideologico. Servono dati certi per valutare una misura di questo tipo. E io credo dopo potremo fare un primo bilancio. Anche l'intervento del ministro Matteo Salvini in questi giorni sui social è poco informato di quella che è la realtà bolognese, ha detto ancora Lepore. Io mi sono messo anche a disposizione del ministro per dare informazioni. Noi abbiamo il 70% delle strade, ma non significa tutto il territorio urbano. Significa che noi abbiamo scelto le strade sulla base delle linee guida del ministero. Dati dell'incidentalità, scuole, punti sensibili. Per come è fatta Bologna, che non è Milano e non è Barcellona, non abbiamo grandi viali, abbiamo piccole strade, strade a due corsie. Abbiamo lasciato quelle più grandi ai 50 e 70, dove a luglio avremo gli autovelox che ci sono stati autorizzati al ministero. Ma le strade che abbiamo messo ai 30 sono piene di attraversamenti pedonali in moltissime situazioni. Quasi tutte hanno le scuole. Perché abbiamo tantissime scuole. Bologna è una città che è fatta in questo modo. Quindi prima di dire facciamo una direttiva su tutti i comuni italiani, confrontiamoci. Perché credo che quella direttiva avrà impatti se vanno a ridurre gli strumenti di controllo, del tutto pericolosi. Perché è vero che la velocità a volte non aiuta ad evitare gli incidenti se la riduciamo. Ma quando c'è un incidente e si va forte, è quasi sicuramente mortale o molto grave per le persone che lo subiscono. E qui c'è già una risposta nemmeno troppo implicita alla direttiva del ministero Salvini. Dunque si annuncia una battaglia forse non solo politica. Dalla parte del sindaco Lepore e della sua giunta si è schierato anche il Codacons, che difende i diritti dei cittadini e che è pronto appunto ad impugnare la direttiva del ministro Salvini. Avvocato Barbieri, dunque Bologna 30, la decisione presa dal sindaco è una decisione corretta, secondo voi? Sì, è una scelta politica corretta perché mira a tutelare la salvaguardia delle persone, dei pedoni, prevalentemente sono anziani, oltretutto quelli che rimangono vittime di incidenti. Perché solo il 4% delle vittime ha meno di 17 anni. Ovviamente la persona anziana ha riflessi più lenti e adesso con il cambio delle auto elettriche oltretutto non ha anche la possibilità di sentire l'arrivo delle auto, cosa che normalmente aiutava anche le persone un po' più distratte a rendersi conto della situazione di pericolo. Quindi è una scelta politica. Il sindaco ha avuto coraggio di rispondere a un sede elettorale, come giusto che sia, e non ci sembra corretto che il ministero debba sostituirsi al sindaco che ha il polso della situazione e non permettere al sindaco di avere, quando sarà il momento, un riscontro elettorale dei propri cittadini di soddisfazione o meno di questa misura. Voi dite che se la direttiva del MIT non rispetterà le prerogative dei sindaci e si risolverà in un'imposizione dall'alto per impedire l'applicazione del limite a 30 km orari, saremo costretti a impugnare il provvedimento al Tar del Lazio. Sì certo, lo impugneremo perché, ripeto, c'è anche una contraddizione da parte di questo governo che da un lato approva il provvedimento dell'autonomia delle varie regioni e maggiore autonomia agli enti locali e dall'altro quando un ente locale assume una decisione importante si mette di mezzo volendogli impedire. Quindi è una contraddizione politica che non ha senso di essere e in più priva i cittadini di poter dare al proprio sindaco la possibilità di decidere come regolare la vita all'interno della città. Torniamo alle voci contro la Bologna ai 30, ad esempio quella di una farmacista che ci spiega come con i limiti ai 30 punto e siano saltate le consegne serali dei farmaci. Come sta andando con Città 30? Sì, con il limite dei 30 km orari mi sarei aspettato un provvedimento più ragionato, cioè che si riferisse principalmente alle vie dove la velocità rappresenta un reale pericolo. Invece è stata applicata indistintamente a tutte le strade di Bologna senza fare differenziazioni e questo è un po' come dare un antibiotico a tutti indipendentemente dal tipo di sintomo che una persona possa presentare. Nel nostro settore questo ha comportato subito delle gravi conseguenze che sono state la soppressione della consegna serale del farmaco. Le farmacie hanno dei magazzini con molti prodotti però non possono avere tutto e quindi normalmente si appoggiano a grossisti che riforniscono la farmacia più volte nella giornata. Quindi la consegna della sera è stata eliminata perché il Corriere non riesce più nei tempi a consegnare a tutte le farmacie i farmaci entro l'orario di chiusura. Questo ha portato delle grave penalizzazioni a tutti ma sicuramente alle persone che soffrono di patiologie che richiedono dei trattamenti urgenti. Per fare alcuni esempi pensiamo a un'insulina per un diabetico o addirittura i farmaci per la terapia del dolore. Un conto è aspettare due ore in un pomeriggio e un conto è invece dover aspettare tutta la notte e non poter venire a ritirare quel farmaco prima delle 10 della mattina successiva. Quindi io penso che il provvedimento vada rivisto per la meno in alcuni punti critici come quello che riguarda la salute. E legato al dibattito sulla Città 30 c'è anche e seppur indirettamente lo sciopero odierno degli autobus a Bologna di 24 ore con presidio davanti alla prefettura. Gli autisti lamentano da una parte la mancanza e la scarsità del personale e dall'altra di fronte appunto al provvedimento di Bologna Città 30 una riorganizzazione delle corse. Abbiamo dei tempi che sono stretti da anni e accentuata negli ultimi mesi ancora di più ma anche questo anni per una mancanza di personale. È inevitabile che con una Città 30 e un servizio pensato sui 50 km orari è inevitabile avere ritardi è inevitabile scontrarsi con l'utenza che ha ragione perché non ha più il servizio di una volta. È brutto constatare io sono fiera del lavoro che faccio l'ho scelto. È brutto constatare che purtroppo eravamo un'eccellenza e non lo siamo più. Eravamo secondi a Milano e non lo siamo più. L'azienda è sorda il comune che è comunque un ente proprietario è sordo e nella quotidianità viviamo ritardi ritardi su ritardi e un lavoro ulteriormente maggiormente stressato perché comunque i controlli è inevitabile che mettono ansia perché abbiamo comunque della gente a bordo e la patente è nostra e il lavoro è nostro e come ricordo e ho detto già la volta scorsa noi abbiamo un doppio ruolo siamo autisti siamo cittadini il problema ce l'abbiamo con la macchina e con l'automus. Secondo me le strade con i 30 km orari sono troppe e sono spesso inutili quindi si potrebbe ridurre sicuramente il numero delle strade a città 30 lasciare ovviamente il centro storico che lo era già come altre strade lo erano già e questo lo sappiamo come autisti e non solo anche come cittadini e poi rimodulare tutto il servizio perché come ripeto è fermo a 20 anni fa con una città a 50 km orari rimodulare vuol dire rivedere le percorrenze vuol dire aumentare autobus e vuol dire aumentare autisti altrimenti ridurre le strade con la città 30 con i 30 km orari lasciare 50 km e nulla contro alla sicurezza perché siamo il sindacato in primis che battaglia per la sicurezza sul lavoro ma se continuiamo così è l'esatto contrario sia per i lavoratori che per i cittadini Chiudiamo questa pagina ci torneremo naturalmente in modo ampio anche nei prossimi notiziari con nuovi servizi andiamo in Cirenaica Bologna dove è stata inaugurata la nuova sede della Onlus Casa delle Donne per non subire violenza Taglio del nastro per la nuova sede della Casa delle Donne per non subire violenza Onlus in Cirenaica nuovi spazi accoglienti e accessibili consentiranno di poter dare ancora di più un aiuto alle vittime di maltrattamenti che cercano di uscire da situazioni difficili lo scorso anno in tante si sono rivolte alla Casa delle Donne Sono dati che si attestano sulle nostre soglie più alte certamente in crescita quest'anno La nuova sede sarà a disposizione di tutti Si sono trasferite tutte le ragazze che lavoravano negli uffici quindi settore promozione l'amministrazione il centralino quindi tutta l'accoglienza e in realtà il punto clou sono gli spazi che servono per fare i colloqui di sostegno alle donne gli unici altri luoghi che noi abbiamo sono quelli delle case rifugio che chiaramente sono segrete quindi non si può fare nessuna inaugurazione sono peraltro sempre quelle avevamo assolutamente bisogno di uffici che fossero accessibili perché la sede storica aveva barriere architettoniche insormontabili questa cosa per noi non era più accettabile avevamo bisogno di luoghi tanto un numero di spazi adatti per fare i colloqui voi immaginate 23 anni fa non è che i numeri fossero gli stessi però diciamo abbiamo trovato questo posto che ci consente anche proprio un ricevimento adeguato delle donne tutte le donne adesso finalmente veramente sì Sport in chiusura parliamo di Bologna Sale Makers è tornato ad allenarsi regolarmente oggi con i compagni domani antivigilia di Milan Bologna conferenza stampa di moto ieri sera invece tifosi della Romagna Rosso Blu in festa Magna Cavallo con una cena e la presenza di vecchie e nuove glorie Rosso Blu Allora quest'anno è un anno divertentissimo i tifosi che ci credono quanto ci crede lei e dove può arrivare il Bologna? Guarda io spero più in alto possibile ma penso che fino alla fine possiamo lottare per la diciamo l'Europa League verosimilmente dove siete? Bologna Club Pesaro Franco Battisodo Battisodo è un giocatore del Bologna degli anni 68 fino al 73 la prima partita che lei ha visto Bologna Cagliari 1-1 gol di Riva e Bulgarelli 12 febbraio 66-67 è il Bologna più divertente che hai visto? il Bologna più divertente che ho visto è stato con Gigi Maifredi io quello di Maifredi me lo ricordo perché ci sono stati dei momenti veramente belli il più divertente di sempre no perché non ci gioco io quindi era divertente per me quando ci mancavo soprattutto però ho avuto modo di vederlo anch'io quest'anno un paio di volte e veramente sta esprimendo un bel gioco e credo l'entusiasmo che il pubblico ha ripreso diciamo verso la nostra squadra credo sia una dimostrazione di quello che stanno facendo i ragazzi beh quest'anno ci divertiamo io veramente mi diverto tutti gli anni guardarlo però quest'anno dai siccome io ho una bella scommessa con uno a vita contro il sassuolo quindi chi arriva davanti paga la cena io con questa squadra qui quest'anno mi mangerò mi farò una bella mangiata perché il sassuolo ha meno 20 sono convinto nell'Europa perché più lo dico più lui mi dice che sono un guffo e quindi io sono quasi sicuro dell'Europa dal mercato vorresti qualcosa quello che viene pur che siano bravi e poi mi piacerebbe che Tiago diciamo rompesse gli indugi e e dicesse che chiaramente che vuole restare a Bologna Castro se speriamo Castro non fidel naturalmente ricorderete i bei tempi gioca bene gioca male Paramatti Nazionale si cantava così noi invece chiudiamo il nostro Tg grazie di averci seguiti appuntamenti e prossimi notiziari ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda www.e-tv.it